L'altra cosa pazzesca è che se voi avete vedere il programma della mostra di Venezia di quell'anno c'erano dei film incredibili, c'era la finestra sul portiere di Dicicolo, fronte del porto di Cazzano, c'era la finestra di Cazzano, c'era la finestra di Cazzano, e i sette saporelli di Cazzano. Poi potevano anche cavarsela dando un leone ineccepibile, invece secondo me proprio a sfottere hanno dato un premio a un film che non c'è tra l'altro. Così come hanno premiato la migliore attrice della pista perché c'era l'attesa, il seguito, Lavalli per senso la Pasina, potevano dare a Grace Kelly per la finestra sul portiere che non avrebbero sbagliato, ma non l'hanno assegnato perché la giuria si era talmente divisa che poi era uscito con un verdetto assurdo, adesso con tutto il rispetto per Cazzano, Cazzano stesso stava da un'altra parte perché non pensava mai di un segnone d'oro. Se non sbaglio, mi pare che in un libro lo scrivi, la giuria poi, i giurati ammisero poi che sarei stati minacciati, non minacciati, ma di aver avuto molte pressioni. Il giurato ha avuto serie tentativi di produzione, ma soprattutto molto tempo prima, in estate, prima che iniziasse la posta del cinema, e il ministro di allora disse che deve vincere come il giurato di Castellani, alla fine, come il giurato di Castellani, senza onde vincere, senza onde vincere. E qui nasce appunto la rivalità tra Fenni e Miscopoli, che per un po' di anni sono come coppie partenze. Sì, in quegli anni, perché poi il cinema allora era veramente popolare, il cinema era di tutti, la gente andava al cinema. Dopo il Tanto Barri, dopo quell'anno, cambia il rapporto tra il cinema e gli italiani. Perché cambia? Perché il boom economico si rivela, insomma, almeno un boom di quel che si crede, inizia una crisi che poi negli anni 70 esploderà, e la televisione, che da qualche anno c'è, ma a quel punto diventa un elemento importantissimo per gli italiani. E forse questi due eventi sono in sintonia, se l'economia si abbassa, cominciano ad uscire di meno e la televisione diventa una coppagnia. Dal dopo, dal Tanto Barri, l'anno dopo c'è il dimezzamento dei biglietti venduti nei cinema e poi un continuo diminuire. Quell'anno però è proprio l'anno dell'esplosione e quando Fellini e Miscopoli hanno fatto precedentemente Fellini e la dolce vita e il biscotto dell'occhio soldato, gli sono diventati i due grandi registi di quel momento. Poi c'era Antonioni, che era amatissimo, apprezzatissimo, ma loro due erano in conflitto, avevano fatto due film incredibili e tutti aspettavano che facessero il film successivo. E i giornali, appunto, ti ripeto, anche i giornali scamberistici, anche i giornali femminili, dicevano, chissà che facevano articoloni su, chissà che film sta preparando Fellini, inventavano titoli, inventavano trame, inventavano attrici, interpreti o chissà che film sta facendo riscontri. La nascita degli otto e mezzo e della nascita del Gattopardo sono due nascite molto strane, molto particolari e anche molto difficili. Gattopardo Miscopoli non doveva farlo perché doveva fare un altro regista e otto e mezzo è un film di cui Fellini non aveva tanto il coraggio di guardare nemmeno a se stesso perché aveva idea di fare un film su uno che non aveva idea di che film fare, che non era una cosa facile da raccontare a qualcuno. Però il cuore del libro, secondo me, è la conclusione culturale. Tu partendo dalla Cardinale, prima di tutto individui tutta una serie di legati, di connessioni, di coincidenze. E poi però arriva in una conclusione che secondo me è molto affascinante, ovvero che sono entrambi forse i due film più personali di questi periodisti, il che per otto e mezzo può essere anche abbastanza evidente. Per il tanto, Mappo, racconta questa cosa. Beh, otto e mezzo nasce, anche se nasce molto tardi, come autobiografia perfetta di Fellini, addirittura l'automografia interiore, che è una cosa ancora più gigantesca, anche se poi questa autobiografia interiore è, alla maniera di Fellini, molto vera, molto inventata, molto rubata anche ai suoi sceneggiatori come Zulayana. Però, insomma, è ovvio che se uno, dopo aver fatto una dolce vita, fa un film su uno, e dopo aver fatto un film di successo non sai che fare, sta raccontando di se stesso. Biscotti, invece, prende un romanzo, che è il romanzo di quegli anni più importante, più famoso, che ha avuto, tra l'altro, più polemiche, ma è anche il romanzo più venduto da parecchio tempo in questa parte, per farlo diventare film. Ed è un romanzo che parla della decadenza di una classe sociale, del passaggio dall'unità d'Italia dal regno delle due Sicilie. C'è una cosa, un fatto storico, ma prima in sceneggiature, poi girandolo, Biscotti si rende conto, stando in mezzo a questo mondo che ha costruito lui stesso, che sta parlando della sua vita, si rende conto che quella aristocrazia era la sua aristocrazia da dove veniva, che quella fine dell'aristocrazia era la fine della sua aristocrazia, che quelle feste, quelle scene, quei lampadari erano le cose che aveva vissuto lui.